Ciao ragazzi, oggi concludiamo il nostro percorso su Carlo Goldoni. Analizzeremo una delle commedie più famose dell'autore, La Locandiera. Un'opera teatrale che venne rappresentata per la prima volta nel 1752 a Venezia e replicata l'anno seguente dalla compagnia di Medebach. Goldoni propone qualcosa di assolutamente nuovo al pubblico e infatti i giudizi sul suo capolavoro sono inizialmente molto contrastanti. La Locandiera è una commedia di carattere divisa in tre atti. Commedia di carattere significa che la storia è incentrata su una protagonista con una psicologia ben definita, non una maschera, quindi un personaggio verosimile colto dalla vita. Al centro dell'opera c'è infatti la figura di Mirandolina, una ragazza molto affascinante, proprietaria di una locanda a Firenze. Gentilezza, eleganza, fascino appunto fanno di Mirandolina una donna irresistibile. Oltre a ciò la locandiera manifesta anche una grande astuzia, una sottile intelligenza soprattutto nei confronti delle altre persone e uno sconfinato potere seduttivo. Attenzione ragazzi perché siamo davanti alla prima opera della letteratura italiana che ha come protagonista una donna. Chiaramente ciò alimentò alcune critiche contro Carlo Goldoni. Nonostante il 700 sia il secolo dell'illuminismo e della ragione siamo ancora molto lontani dalla parità sessuale. Cioè mettere in scena una donna che appare più intelligente degli uomini che la circondano e che addirittura si prende gioco di loro è sicuramente il tratto più moderno e originale della locandiera. Mirandolina è una donna onesta e capace di darsi da fare, di lavorare duramente per far prosperare la sua attività. Ogni uomo che entra nella sua locanda si innamora di lei. Si potrebbe superficialmente credere che sia una donna facile che ami prima di tutto gli uomini. In realtà ciò che ama di più è il fatto stesso di essere corteggiata, ammirata, sedurre prima di essere sedotta. Vuole godere fino in fondo il piacere di essere bella, godersi quella giovinezza di cui in fondo il giorno che la commedia rappresenta costituisce la fine. Infatti nel finale della rappresentazione Mirandolina sposerà Fabrizio, un umile cameriere, inizierà una comune vita borghese. Forse lo stesso Goldoni rivive con uno sguardo malinconico i suoi amori e la sua giovinezza. Chissà se un giorno non si sia realmente innamorato anche lui di una proprietaria che faceva impazzire i cuori di tutti i suoi clienti. Sarebbe solo un'ulteriore conferma di quel realismo, quel vero simile che l'autore cerca sempre di attuare nella sua riforma del teatro. Goldoni in effetti nei confronti di Mirandolina ha un atteggiamento a metà tra la tenerezza e l'ironia. Ma passiamo ora a raccontare la trama. Nel primo atto la scena si apre all'interno della locanda di Mirandolina a Firenze. Qui soggiorano due personaggi, il marchese di Forlipopoli, un nobile presuntuoso che in realtà non ha più un soldo e può vantarsi soltanto del suo titolo, e il conte di Alba Fiorita, un borghese che si è arricchito a tal punto da potersi comprare il titolo nobiliare. Sia il marchese che il conte chiaramente sono cascati nel gioco di Mirandolina e corteggiano la bella locandiera. Il conte attraverso regali molto costosi, mentre il marchese soltanto attraverso parole e piccoli gesti che esibiscono tutta la sua nobiltà di sangue. Sono due personaggi molto comici, proprio perché ottusi, ridicoli, imbalsamati, chiusi nel loro modo di vedere il mondo che coincide con la massima di Alberto Sordi nel Marchese del Grillo. Io sono io, e voi, e voi non siete niente. Ecco che allora risulta ancora più divertente osservare come Mirandolina riesca a farli tornare a terra, illudendoli senza mai concedersi. In scena appare anche un terzo personaggio maschile, un umile cameriere Fabrizio, scelto però dal padre di Mirandolina sul letto di morte come marito per la figlia. A questo punto fa il suo ingresso sul palco il personaggio maschile più importante della commedia, il Cavaliere di Ripafratta, un uomo che odia tutte le donne, cioè un misogino, un uomo altezzoso, scontroso e molto maleducato soprattutto nei confronti di Mirandolina, trattata come una serva. La locandiera però non si scompone, anzi decide di accettare la sfida. Da questo momento in avanti il suo unico obiettivo sarà quello di far innamorare di sé il Cavaliere. Per distrarre gli altri due pretendenti, Mirandolina sfrutta la presenza nella locanda di due commedianti, Hortensi e Dejanira, che fingono di essere due nobile donne e vengono subito corteggiate dal Marchese del Conte, un bel esempio di teatro nel teatro. E su queste due coppie di personaggi si chiude il primo atto. Nel secondo atto Mirandolina sfodera tutte le sue armi seduttrici per far perdere la testa al Cavaliere. Quest'ultimo però resiste ed è sul punto di lasciare la locanda per trasferirsi a Livorno pur di non cedere al sentimento. Mirandolina non molla e alla fine la spunta, ricorrendo anche a un finto svenimento davanti al quale il Cavaliere apre il suo cuore alla bella e furba locandiera. Nel terzo atto Mirandolina ha in mano la situazione e cambia completamente il suo atteggiamento. Ormai il Cavaliere è ai suoi piedi e sono inutili i doni e le infiammate dichiarazioni d'amore. Gli altri personaggi ridono di lui, del modo in cui si è fatto prendere in giro da Mirandolina. A questo punto l'orgoglio ferito del Cavaliere si aizza contro il Conte che viene sfidata a duello. Mirandolina interviene a calmare gli animi, umiliando in questo modo ancora di più il Cavaliere. A questo punto la locandiera decide di mettere la parola fine alla partita. Nella scena finale in cui tutti i personaggi sono presenti sul palco, dichiara di non voler sposare nessuno dei tre pretendenti nobili, ma di voler seguire la volontà del padre, sposando invece il cameriere Fabrizio. Chiaramente il Cavaliere abbandona immediatamente la scena e insieme alla scena anche la locanda imprecando contro tutte le donne. Infine ragazzi prima di abbassare il nostro sipario su Carlo Goldoni bisogna sottolineare che la commedia utilizza una lingua toscana, una lingua toscana basata sulla lingua viva, parlata, comune e non su quella scritta, imitata nei secoli. Con questo è tutto ragazzi, ricordatevi che forse le donne non vanno capite, ma vanno semplicemente amate. Ciao ragazzi!